Bella a tutti ragazzi, oggi vi devo raccontare una storia a dir poco inquietante sugli animali. Allora, la storia si intitola Gli animali e il cannibalismo. Allora, leggiamo questa storia. L'ho tradotta perché l'ho trovata su un sito in lingua inglese, ma adesso ve la leggerò tutta. Iniziamo. I barboncini sono cani addestrati per uccidere animali come anci, cervi, orsi, puma ed altre creature, compresi quelli che sono stati feriti o mangiati dall'uomo. È importante tenere presente che i cani non sono necessariamente perfetti. L'enorme è probabile che i cani mordano gli altri. Questa è una conseguenza naturale ed evolutiva dell'interazione uomo-cane. Ma è anche noto che anche i cani mordano gli umani in modi molto pericolosi. Il cannibalismo è un evento frequente di natura, di solito durante l'estate. Poiché l'estate è un periodo dell'anno in cui è probabile che abbiano mangiato cervi, in natura sono state osservate diverse reazioni di morso e morso. Uno degli esempi più frequenti è stato riportato nel 1998, quando un orso nero ha ucciso un cane maschio bianco con un morso. L'orso nero ha anche usato un morso come opportunità per mordere il cane. In questo caso, il morso è stato seguito da un arresto del morso e è continuato per le successive 24 ore. Ciò è accaduto il 23 luglio, il giorno dopo l'omicidio di un orso nero da un attacco di un cervo nel parco. Ragazzi, questa era la storia. Ve l'ho letta tutta. Fa molta paura. Bella a tutti ragazzi, ci vediamo in un prossimo video.